benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a seminari dell'innovazione una serie di appuntamenti organizzati dal neuroscience lab di intesa san paolo innovation center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte appunto nell'ambito delle neuroscienze il titolo del nostro incontro di oggi è sodalizio arte e neuroscienze verso obiettivi comuni perché a questa domanda proveremo a rispondere con elena fornasa che è artista arte terapeuta ed esperta in neuroestetica buongiorno elena e benvenuta ciao a tutti grazie intanto anche per l'opportunità elena una prima domanda per te partiamo proprio da un approfondimento su questo sodalizio tra arte e neuroscienze e sono due ambiti che possiamo dire si incontrano si sfiorano si incrociano ma in che modo aiutaci a capirlo meglio con una domanda calzante che entra subito nel vivo allora arte e neuroscienze ovviamente essendo due ambiti che si guardano si toccano si incontrano hanno portato anche alla nascita di aree ibride nel caso delle neuroscienze ad esempio è nata una sotto area una appunto la neuroestetica che va a toccare proprio l'indagine dell'arte attraverso quelli che sono gli strumenti neuroscientifici primariamente appunto con interesse rispetto a come funziona la percezione visiva sono nate tutta una serie di ricerche rispetto a come lo spettatore risponde alle opere d'arte ad esempio a quali aree si attivano anche attraverso le tecniche di neuroimaging come la PET la risonanza magnetica funzionale tutta un'altra serie di strumenti che hanno portato quindi a un interessante serie di ricerche che mettono insieme tutto quello che avviene a livello artistico da un punto di vista scientifico viceversa però anche le arti in realtà hanno anche anticipato quella che può essere stata la scoperta di come organizzato il nostro cervello visivo leonardo caravaggio e tutti i vari artisti che si sono avvicendati nella produzione di opere ad alto impatto visivo sora le avanguardie insomma andando anche a scomporre arrivare a un'attrazione quindi ad estrapolare degli elementi principali che vanno ad attivare per esempio la corteccia visiva in quell'area specifica deputata al colore piuttosto che allo stesso modo però non solo gli artisti hanno anticipato quindi sono stati dei visionari nel capire come funzionava il nostro sistema visivo ma gli artisti contemporanei ormai stanno facendo proprie le competenze e le conoscenze gli strumenti neuroscientifici traducendo quindi tramite opere d'arte installazioni una nuova forma di arte che potremmo definire una brain inspired art o un art of neuroscience quindi d'altro canto il toccarsi e il guardarsi di queste discipline non avviene in una direzione unifico e univoca dalla parte delle neuroscienze che guardano all'arte ma in realtà avviene anche dal punto di vista dell'arte stessa che rendendosi conto di alcune componenti di alcuni aspetti lavora nell'altra direzione entrambe la scienza e l'arte sono in grado di farci costruire nuovi schemi di conoscenza rispetto alla realtà all'ambiente che abbiamo intorno e quindi sono estremamente importanti per per l'uomo e dovrebbe non dovrebbero essere considerati come due aspetti dicotomici anzi ce lo dice lo stesso candel questo neuroscienziato che sono due facce nella stessa medaglia e quindi due modi diversi di parlare di chi siamo come essere umani non possiamo che trarre vantaggio da questo scambio e forse nasceranno una serie di nuove modalità di interazione che ancora non contempliamo in questa tua prima risposta hai già accennato ad alcuni aspetti che entrano in gioco nel momento in cui noi facciamo la nostra esperienza nei confronti dell'arte possiamo approfondire ulteriormente e anche perché ci sono più tipologie di arte e quindi come cambia il nostro modo di approcciare a queste tipologie e queste esperienze hanno poi delle ricadute reali all'interno delle nostre vite partirei dal fatto che l'esperienza artistica in generale fa leva su diversi aspetti della dell'essere umano quindi la componente corporea la simulazione sensoriale senso motoria la dimensione invece più prettamente cognitiva della comprensione per esempio della associazione di un significato rispetto a un'opera d'arte la parte emotiva quindi centri della ricompensa che attivano e ci portano anche a rivivere una stessa esperienza possiamo parlare di una sorta di triade dell'esperienza artistica che fa leva proprio su questi aspetti emozione valutazione ecco di ciò che che percepiamo vediamo a livello artistico o leggiamo adesso ci arriveremo alle varie tipologie d'arte a confronto la parte di attribuzione di un significato che fa leva anche sulla conoscenza e la parte appunto sensoriale senso motoria che che attiva tutta quella che la nostra corporeità perché ecco il la neuroestetica in realtà la ricerca attuale si pone in relazione al nuovo paradigma che quello dell'embodied connection che considera come non separata la nostra dimensione del pensare rispetto alla nostra corporeità infatti una antropologa molto importante ve la cito così giusto perché ha fatto un excursus attraversando anche le neuroscienze e vari ambiti del sapere parla di capacità evolutiva dell'arte cioè l'arte esiste da sempre quindi in realtà ha un significato per noi umani e costruisce una categoria quella di uomo esteticus quindi non siamo solo uomo sapiens sapiens la nostra evoluzione fa leva anche su quest'apertura ai sensi che ha permesso anche poi l'evoluzione del linguaggio e di tutte quelle competenze che abbiamo a livello alto come esseri umani quindi proprio perché è qualcosa di connaturato all'uomo ed esiste da sempre non può che non avere una ricaduta anche su quello che viviamo nella realtà perché se esiste un mondo parallelo di produzione artistica visiva letteraria performativa e rispetto a quello che è il mondo che noi viviamo con il nostro corpo quindi abbiamo l'esigenza di rappresentarlo di produrre di oggettificare sicuramente questa questa sfera di produzione ci ritorna e modifica internamente anche la nostra la nostra persona possiamo parlare di cross modalità ecco il nostro cervello lavora a livello di integrazione sensoriale allo stesso modo esistono dei network che integrano più parti esiste un network molto interessante che il network cross modale narrativo che dimostra come siamo appunto soggetti sociali e narrativi quindi abbiamo una nostra autobiografia nostra capacità di medesimarci negli altri cosa ce lo dicono anche le ricerche legate ai neuroni specchio che fanno sì che durante una lettura che ha una forte valenza sensoriale non solo a livello di conoscenza a livello cognitivo siamo in grado di essere trasportati dentro la lettura di medesimarci nel protagonista e questo è proprio legato a questo network cross modale narrativo che ci permette quindi fondamentalmente di vivere nuove esperienze di amplificare le nostre esperienze reali andando a sperimentare nella nell'immaginazione con l'immaginazione nuove possibilità anche di essere noi stessi andando anche a diciamo decostruire quelli che sono magari dei pregiudizi degli stereotipi riprendendo anche italo calvino afferma che con uno specifico libro quello specifico libro che è significativo per noi può portarci a ristrutturare la nostra architettura interna in seguito a quella lettura tutto quello che abbiamo vissuto prima assume una nuova forma esistono numerosissime poter citare infinite ricerche su questi aspetti non solo gallese o tli piuttosto che mattie che parlano anche del simulete self all'interno della letteratura ma questo avviene in realtà ci dice gallese anche nella dimensione della della relazione con l'arte visiva e anche con della relazione con l'arte cinematografica quindi proprio a tutti i livelli non abbiamo il tempo per approfondire così tanto ma andatevi a leggere lo schermo empatico di gallese andatevi a leggere motion emotion and empathy che cita arte figurativa e arte astratta e quindi da uno sguardo ulteriore su come possono essere stimolati tutte quelle parti che vi ho citato del nostro essere per andare a costruire davvero qualcosa di significativo attraverso l'arte che ci scuote ci cambia e produce anche benessere nel titolo dell'intervento c'era una domanda che dicevamo arte neuroscienze un sodalizio che porta verso obiettivi comuni quindi elena ci sono ce ne puoi parlare chiaro che sì e ce ne sono senz'altro ce ne sono forse anche fin troppi e partirei con la sottolineare no quello che ho evidenziato nella nella risposta alla prima domanda cioè che primariamente forse un obiettivo importantissimo di questo scambio tra ambiti che sembrano apparentemente distanti ma non lo sono è quello di costruire un nuovo ambito di del sapere diciamo una nuova anzi direi proprio una nuova modalità approccio culturale che faccia leva sulla transdisciplinarietà non considerando come dicotomiche queste due sfere ma andando quindi a costruire una scienza umana e una dimensione umanistica che si basa sulla dimensione scientifica tanto che appunto vi cito uno scritto al di là di fare riferimento a diversi pensatori come Charles Percy Snow, Edgar Morin lo stesso Candel che ho già nominato Shangeo quindi che vengono da diverse da diverse esperienze e formazioni ma anche tanti dalla da una dimensione di formazione scientifica sottolineano veramente questa importanza di pensare alla magma culturale come composto sempre da questi due aspetti e nel citarvi una filosofa nas baun faccio riferimento a un testo non per profitto che sottolinea proprio che la cultura umanistica che sta venendo un po' accantonata in favore di quella scientifica nella realtà odierna deve essere ripristinata soprattutto nei percorsi educativi andando a sottolineare questa diciamo importanza per il mantenimento della democrazia quindi il pensiero umanistico importante proprio per la nostra società e le neuroscienze hanno forse il compito di ripristinare un po' di sottolineare questa importanza il potere che ha la cultura di farci essere persone tolleranti verso gli altri tant'è che un altro aspetto forse un altro punto è proprio la possibilità attraverso l'arte di ridurre lo stress tramite la partecipazione culturale ci sono diversi scritti ricerche che sottolineano anche un testo tradotto in italiano da Enzo Grossi che sottolineano come appunto la partecipazione culturale produca benessere riduca il cortisolo in alzi livelli di dopamina e serotonina in modo da ridurre stress e ansia produrre benessere andare in una direzione di omeostasi e questo non solo individualmente ma anche con una partecipazione culturale a livello comunitario è possibile far leva sull'inclusione su una nuova relazione tra spazi e attori che orbitano nel mondo della salute e nel mondo della cultura e quindi andando a costruire una nuova rete proprio un nuovo modo di utilizzare la società considerando che i farmaci davvero hanno un impatto minimo rispetto a quello che ha la cultura e l'arte sulla riduzione proprio dell'ansia e la predisposizione all'insorgenza di malattie mentali questo sottolineo solo un altro aspetto proprio perché il cervello è altamente interconnesso altamente plastico nel corso di tutta la nostra vita in realtà può essere sfruttata la dimensione culturale artistica anche a scopi riabilitativi esiste una ricerca italiana della Yachty Lab di Roma che parla di questo Michelangelo effect cioè è stata fatta diciamo questa esperienza con pazienti che hanno subito purtroppo un ictus nel riabilitare la manualità e ridisegnare con un visore invece di utilizzare solo immagini casuali hanno utilizzato immagini opere d'arte significative come quella di Michelangelo e si è scoperto che favorisce la motivazione e riduce i tempi di ripresa oculomanuali e quindi ecco proprio aiuta la riabilitazione ha anche un'influenza di questo tipo penso che fondamentalmente siano questi gli obiettivi principali sicuramente andando avanti se ne potranno aggiungere degli altri ma quello che è fondamentale è che davvero questa nuova interconnessione tra questi due ambiti ci può portare a renderci conto che l'arte ci trasforma e può trasformarci tutti nella direzione di una migliore società prima di salutarci Elena visto che ci hai dato tantissimi spunti ti chiederei se abbiamo modo di seguirti così possiamo rimanere aggiornati informati anche sulle tue attività di divulgazione sicuramente su linkedin mi trovate con il mio nome e cognome Elena Fornasa sono reperibile anche su facebook su instagram sto riaggiornando la pagina però vedrò vedrò di farvi ricevere e anche sto costruendo un sito che possa riportare la mia esperienza di diciamo proprie attività anche pratica inerente a questo connubio spero quindi di potervi raggiungere in vario modo nel caso sono reperibili anche via mail a elen for nasa chiocciolagmail.com per domande o approfondimenti bibliografici e a questo punto a me non rimane che ringraziare ancora una volta Elena Fornasa per essere stati con noi ciao a tutti grazie mille di nuovo per questa occasione e io vi do appuntamento ai prossimi episodi di seminari dell'innovazione sempre su intesa san paolo on air grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio